10 chili di cocaina pura al 75% che se immessa sul mercato avrebbe prodotto un illecito guadagno di oltre 2 milioni di euro. Sono i dati dell'operazione illustrata questa mattina dalla compagnia della guardia di finanza di potenza e dal procuratore capo della repubblica presso il tribunale di lago negro vittorio russo. Il sequestro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri su una vettura che viaggiava in direzione sud sull'A3 Salerno-Reggio Calabria a finire in manette un pregiudicato di 39 anni della locride associato al carcere di Sala Consilina mentre è stata disposta alla perquisizione della sua abitazione calabrese. Al momento ovviamente noi dobbiamo guardare i fatti quindi abbiamo un arrestato per detenzione di droga però la quantità le modalità di confezionamento e quant'altro ci lasciano diciamo ci inducono ci impongono di ragionare in termini diversi sicuramente questo imponente quantitativo di stupefacenti era destinato al mercato al mercato calabrese sicuramente era diciamo sono ipotizzabili collusioni e corresponsabilità per cui noi diciamo abbiamo come strategia operativa disposto la direttissima per la persona arrestata che noi riteniamo essere il corriere poi e con stralcio degli atti per tutte le indagini che saranno necessarie per fare poi completa luce sul complesso e su tutte le persone poi che facevano capo e che sono corresponsabili di questo tipo di commercio e di smercio di cocaina. sugli involucri che contenevano la droga un ananas segno tangibile che il traffico di sostanza stupefacente proveniva dalla colombia e che pare sia stata smistata dal napoletano verso il mercato calabrese e pugliese. In effetti questa modalità di confezionamento dei prodotti corrisponde a un'esigenza di tracciabilità da parte delle organizzazioni criminali in questo caso specifico si sa attraverso la comparazione che avviene a livello centralizzato sui sequestri realizzati in ambito nazionale che si tratta di un elemento distintivo rivelatore di una provenienza specifica da parte di una organizzazione operante in Colombia. Quanto riguarda invece il luogo del ritrovamento della sostanza? La droga è stata trovata a seguito di una minuziosa ispezione del veicolo e si è notato che i pannelli posteriori degli sportelli potevano essere idonei a costituire il nascondiglio della droga come poi è stato e in effetti il trafficante aveva utilizzato anche un ulteriore accorgimento quello di circondare gli involucri di stupefacente con dei sacchetti di polvere di caffè. Questo è un espediente... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!